Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla selezione nazionale piloti e benvenuti al TG Notte anche oggi ci sono, io sono sicuro che molti di voi già pensavano no ma dai Nicola oggi sicuramente è stato tutto il giorno in pista, trasferta lontanissima, non farai un video e invece eccoci qua ci siamo anche oggi, tra l'altro oggi è una bella giornata per l'Italia del motorsport per quello che è successo in gara 1 del mondiale superbike, veramente è splendido vedere un podio con tre italiani parleremo anche di questa cosa qui, ma intanto vi invito, facciamolo prima della sigla, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina, l'ho fatto prima della sigla perché se no dopo me lo scordo lanciamo la sigla notturna così mi sveglio un attimino e poi partiamo con questa breve puntata perché non ho avuto molto tempo per prepararla ma comunque ci siamo e la facciamo, sigla! bene eccoci qua, allora oggi devo essere sincero ho ancora il telefono pieno di messaggi whatsapp poi non oso pensare quello che ci sia su messenger o su instagram riguardo alle prove della ferrari perché? ci sono molti dubbi no? soprattutto non per quel che riguarda la ferrari ma per quel che riguarda la red bull di max verstappen perché secondo me noi dobbiamo fare tipo farci un'idea che ci sono tre scuderie red bull quella lì di max verstappen poi ce n'è una seconda di ceco perez e la terza che è quella di zunoda e ricciardo ecco sarebbe bene classificarle così quindi abbiamo tre team red bull in griglia ora il team di punta quello di max verstappen pare sia andato molto molto forte nella simulazione con la c3 e se tu vai forte con la c3 non c'è ragione per la quale tu non debba andare forte con la c2 e poi con la c1 ecco perché comunque io rimango convinto che allora ancora loro sono un po avanti poi questo quanto è grande questo polo capiremo solo al primo gran premio ha messo in un concesso che sarà possibile capirlo per esteso per essere come dire possibile una cosa del genere bisogna bisognerebbe avere una gara bella tirata dall'inizio alla fine e non scontata però oggi francesco magaddino che saluto di live gp mi ha inviato tutte le telemetrie dello stint di le claire e dello stint di verstappen domani le guarderemo bene perché ho fatto tardi non c'è stato modo di studiarle per benino soprattutto per quel che riguarda la velocità raggiunta in curva in alcune curve chiave dove l'usura della c3 si fa sentire e poi sul dritto perché da uno sguardo veloce sembra che la ferrari sul dritto aveva un po di velocità in più quindi significa magari un motore un po più spinto al livello di mappature no e red bull un po di meno ma poi quello che mi ha incuriosito è la differenza di velocità in curva 12 quindi questa cosa qui me la voglio andare a guardare per benino se da un lato però ragazzi non voglio spegnere gli entusiasmi di nessuno vi dico semplicemente quello che so a oggi che non è tantissimo domani ne saprò molto di più uno perché avrò visto meglio la telemetria due perché comunque avrò avuto modo di informarmi meglio perché quando sono finiti i test ci siamo tuffati nella preparazione della giornata di pista ok e abbiamo finito tardissimo oggi non ne parliamo domani sarà una giornata a mezza botta quindi domani sarà possibile verificare meglio alcune cose però una cosa l'ho saputo e cioè che le claire ha fatto uno stint c'è uno stint tutta la simulazione del gran premio con un assetto molto aggressivo ora che cosa si intende per molto aggressivo si intende molto veloce ma anche molto esigente con gli pneumatici e io sono sicuro che non avremo lo stesso tipo di setup in gara con il pilota monegasco per quale motivo perché secondo me in ferrari si sono voluti spingere veramente tanto tanto in là quindi con un assetto estremo per vedere fino a che punto teneva la gomma vero è che lo stint di le claire complessivamente è stato 18 secondi più veloce di quello di science finché sono stati a parità di giri quindi mancandone più o meno una decina si presume che questi 18 potevano tranquillamente diventare 25 però è anche vero che quando vedevamo dagli on board guidare le claire con le gialle ma anche con le altre ruote a un certo punto vedevamo che era come se faceva quasi apposta a metterla in crisi al posteriore tant'è che abbiamo detto cosa sta facendo ecco probabilmente secondo me si sono proprio spinti tanto tanto al limite per poi fare un passettino indietro in termini di tenuta laterale quindi anche di aggressività nella scelta del setup io sono sicuro che in gara vedremo assetti meno estremi ma più gentili sulle gomme quindi se da un lato abbiamo una red bull che ha spinto meno sull'acceleratore dall'altro ho avuto l'impressione di una ferrari un po' troppo esigente con con gli assetti che magari in gara starà un po più calmina da questo punto di vista allungando la vita di una mescola ad esempio fondamentale come la c3 per la prima parte di gara che sarà la futura rossa poi effettivamente molto sarà deciso anche dalle temperature esterne perché a oggi la strategia che forse abbiamo capito faranno è c3 e poi c1 ma è possibile anche che ci sia qualcosa di diverso in vista della gara se le temperature saliranno comunque ripeto domani sarò molto più preciso perché avrò avuto modo di prendere per benino tutte le mie informazioni poi per quel che riguarda sempre ferrari tanti auguri ad allen prost che oggi ha compiuto 69 anni volevo essere come dire ci tenevo a fare gli auguri al professore non volevo dimenticare questa cosa qua uno perché la vettura che sta guidando è stata una di quelle che mi è rimaste nel cuore e due perché comunque prost è un pilota importante nella storia della ferrari ha dato il suo contributo e poi allen prost e allen prost poi passiamo per un attimo alle due ruote per poi tornare di nuovo in formula 1 che giornata ragazzi prima gara philippa island e podio tutto italiano con nicolò bulega al debutto in superbike vincitore di gara ma che vincitore con tanto di rimonta poi al secondo posto il pilota della yamaha locatelli e poi jannone al rientro nelle gare e anche lui ha fatto un garone incredibile gran giornata per il pilota ufficiale comunque della ducati che oltre ad aver messo dietro i piloti che gli hanno fatto compagnia sul podio ha messo dietro razgatioglu roe loves ria e poi non dimentichiamo il campione in carica bautista che caduto si è rialzato ed è arrivato se non sbaglio quindicesimo quindi giornata trionfale per l'italia con tre piloti sul podio ma ancora più trionfale per nicolò bulega andiamo a parlare per un attimo di tecnica quindi ritorniamo in formula 1 ricordate quando nel video di ieri vi ho fatto vedere la mercedes con il braccetto del della sospensione del triangolo superiore più in basso rispetto al giorno prima ebbene qui abbiamo una fotografia dove si capisce benissimo anzi due foto messe insieme la differente posizione del braccetto posteriore della sospensione perché qui c'è il retrotreno della vettura qui c'è l'avantreno questo è il triangolo superiore braccio interiore e braccio posteriore vedete qui è attaccato molto più in basso qui invece molto più in alto quindi loro hanno fatto una scocca con una piastra che permette un doppio alloggio della sospensione del braccetto della sospensione qui viene attaccato il braccetto oltre alla piastra più in basso nella scocca e qui trova un alloggio più in alto questo setup in alto è più adatto a gare lente con grosse frenate dove serve spostare un po il carico all'anteriore e dove non ci sono curboni parecchio veloci dove serve appunto avere una stabilità maggiore della piattaforma aerodinamica soprattutto del fondo questa seconda soluzione più in basso invece interessa le curve veloci quindi quelle piste tipo silverstone per esempio dove è importantissimo che la vettura rimanga il più piatto possibile quel braccetto spostato in basso lo dico per i nuovissimi iscritti evita il coricamento o per meglio dire limita tantissimo il coricamento in avanti in fase di frenata e questo permette di avere sempre la stessa quantità d'aria più o meno quasi che va nei canali venturi e questo regala alla monoposto più stabilità aerodinamica bella trovata che ripeto è una buona soluzione perché permetterà se funziona innanzitutto di avere una soluzione di setup più ampio in casa mercedes e poi evitano di spendere soldi qualora volessero come dire estremizzare ancora di più l'anti dive così hanno una doppia soluzione vista nel 2025 dove comunque ragazzi credo non ci sarà nessuno che rifarà la scocca e poi tra l'altro forse questa cosa qui verrà decisa di comune accordo tra tutti i team bene per chiudere questa veloce puntata rispetto a quelle nostre abituali volevo ricordare wilson fittipaldi qui col fratello emerson che è scomparso nella giornata di ieri a 80 81 anni comunque meno male l'età era quella wilson è il pilota che vi sta indicando la manina bene ragazzi il video si conclude qui io me ne vado a nanna spero vi sia piaciuto se volete lasciato un like un commento e condividete il video sui vostri social perché di iscrivervi ve l'ho già detto all'inizio dai bacio abbraccio ciao ciao ciao